...ai credenti di Monsignor Viganò, che diceva cose che Vespa ha detto, Dio lo perdoni, ma in piazza ce ne sono diversi, guardate il 151. Lei è cattolico? Cattolicissimo, cristiano. Il Papa ha detto vaccinatevi. Preferisco dare ascolto a Monsignor Viganò, non al Papa. Il Papa è la rovina del mondo, bruciolo proprio il Papa che è la rovina proprio. Ma lei è cattolico? Io sono cattolico, ma lui non è cattolico. Dentro a queste siedi ci stanno cellule di feti abortiti. C'è un'organizzazione americana che paga 550 euro un feto abortito di giovani donne. Allora, se nella scienza non c'è spazio per le opinioni contrastanti, nella religione forse sì, Monsignor Viganò. No, qui è stato già chiarito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e dalla Pontificia Accademia per la Vita su queste questioni. Perché in realtà, quando cominciò il tema del vaccino, arrivarono anche a noi e a me personalmente alcune di queste obiezioni che sono state già risolte già 15 anni fa. Ci sono appunto dichiarazioni autorevoli che ritengono assolutamente falso il discorso della conseguenza di filiere vaccinali del 1973 di cellule di un feto abortito. Questo poi non si sa se è naturalmente o spontaneamente. Quindi lei contesta proprio i fatti alla base di queste follie. Ma certamente, e per questo anche il Papa non è che si è alzato la mattina e ha detto... Il Papa ha avuto molte informazioni, lui stesso e gli altri organi della Santa Sede. Quindi io, quando Viganò intervenne anche io, feci poi una correzione. Sì, sì, tatti l'abbiamo chiamata per quello. Di fronte ai fatti, di fronte alla tragedia di quello che stiamo vivendo. Io un mese fa ho scoperto, mi hanno riferito, di una casa di riposo per anziani dove c'erano quattro...